Oua al quadrato è il nome del vino che viene contenuto in questa botte, una botte di cemento. Daniele Parma, un percorso che porta dalla vigna al vino, in che modo? Beh, in maniera assolutamente tradizionale, quindi un'agricoltura un pochettino più attenta, io chiaramente non voglio dare voti a nessuno, parlo di me, parlo della mia esperienza personale. Quindi un'agricoltura oggi un pochettino più attenta che è arrivata nel biologico e adesso abbiamo cominciato una conversione in biodinamico. Questo che cosa significa? Significa che l'uomo ritorna ad essere l'interprete del territorio e non è un uomo aggressivo che vuole condizionare l'andamento, in questo caso della vendemia, perché parliamo di uva, o comunque quello che è l'andamento della stagione. Quindi rispetto, lavoro, accettare in questo tipo di agricoltura che non si può sempre avere l'ottimizzazione del risultato, quindi la piena produzione, che sarebbe però falsata, sarebbe forse quasi sempre falsata da un atteggiamento un pochettino più aggressivo. Ecco, un percorso professionale che parte dall'86, il suo, che arriva ad essere premiato come progetto nel 2000 a Vinitaly. Che tipo di riconoscimento è stato? Eh sì, è stata la prima medaglia di Can Grande data nella provincia di Genova. La medaglia di Can Grande è la medaglia data ai benemeriti della viticoltura, perché in quel periodo io creai il mio primo vigneto, insieme a quella che adesso è mia moglie, la mia compagna, costruimmo nella terra di famiglia questo vigneto di circa due ettari, e fu segnalata questa opera, e questa opera poi fu ottenne il riconoscimento a Vinitaly 2000, il Ministro dell'Agricoltura, Fassino ai Tempi, il Presidente della Regione Gallan, mi incoronarono, benemerito della viticoltura. Una scelta professionale e di vita che passa attraverso la verità, è così che l'ha definita? Assolutamente sì, questo è un mestiere che intanto la verità te la dice da solo, quindi poi se noi vogliamo mascherare questa verità con atteggiamenti, parole eccetera, in realtà è un mestiere molto di verità, la natura alla fine comunque detta le regole e la verità non si può negare. In Liguria il vino è fatto di rocce, di sale e di mare, un vino che non è stato riconosciuto per quello che vale probabilmente negli anni, anche per come veniva fatto probabilmente, che tipo di evoluzione ha avuto il vino Ligure? Lei ha centrato, secondo me lei ha centrato proprio un punto saliente, un punto caldo, nel senso che la viticoltura in Liguria c'è sempre stata, è sempre stata una viticoltura di fatica, come quasi sempre è fare agricoltura, anche altri tipi di agricoltura in Liguria. Diciamo che sono successe tante cose, sicuramente i produttori hanno fatto il loro dovere, si sono rimessi in discussione, hanno capito che il mercato chiedeva altre cose e quindi hanno aggiornato i loro metodi. E dall'altra parte devo dire ci sono state delle signori associazione che si sono calati con il prodotto, mi riferisco all'Aes, penso che si possa fare il nome, si sono calati di fianco a noi, sono venuti a osservare il nostro lavoro e hanno cominciato a capire e a giudicare i nostri vini anche sotto questo punto di vista, perché il vino va giudicato anche sotto questo punto di vista. Se il vino è il prodotto dell'uva, come fa una produzione a diventare di valore nel momento in cui l'uva di riferimento è sempre la stessa? Qua è quasi sempre, io non saprei come rispondere per rispondere in maniera totale a questa domanda, le potrei raccontare, le potrei dire quello che secondo me è. È un percorso che ognuno di noi fa, guardandosi intorno, capendo i propri territori, per territori intendo i nostri vigneti in questo caso, e cominciando ad entrare in equilibrio con questi vigneti. Quando si capisce questo e non si vuole emulare un risultato di un altro vigneto, magari di un altro produttore, magari di un altro territorio o anche di un'altra regione, forse l'uomo qua può ottenere molto di più di quello che i protocolli di vinificazione e tutte le consulenze varie ti potrebbero proporre di ottenere, che poi secondo me a volte non si ottengono, anzi è raro ottenere. Rimanendo in Liguria, la riviera di Ponente arriva prima rispetto alla riviera di Levante, perché? Sono parte del territorio molto più vasto, c'è stata un'unità di intenti e di pensieri da parte dei produttori che hanno raggiunto prima questa visione comune del territorio e l'organizzazione del proprio disciplinare e quindi darsi delle regole per produrre sul territorio. Assolutamente la riviera di Ponente, come la Piana di Luni e le Cinque Terre, che sono doc più anziane di noi, sono assolutamente punti di riferimento da questo punto di vista. Quindi restringiamo ancora e torniamo nel Tiguglio o comunque nel immediato Levante Ligure rispetto a Genova. Che vini abbiamo e che vini sono? Tanto bianchi e rossi. Allora, la produzione in Liguria credo che oggi giri più o meno su queste percentuali, 60-70% di bacche bianche e il resto bacca nera. Anche se c'è una forte controtendenza, nel senso che per i cambiamenti climatici, per una maggiore conoscenza del proprio territorio sicuramente c'è un ritorno delle bacche nere di Lepre Potento. Un po' tutti stiamo scommettendo sulla bacca nera. Io sono uno di quelli, l'ultima vigna che ho fatto, ho cominciato con la prima vigna che era bacca nera e l'ultima vigna che ho fatto, che proprio in questi anni ho piantato, ho scommesso sulla grannaccia. Ritengo che la Liguria comunque sia un territorio unico per me. Io ho questa visione. Girandola, abbastanza, è vero che è molto diversa. Orograficamente ci sono delle grandi piane come quella di Albenga, quella di Luni, poi ci sono le colline, media collina, alta collina, dove si coltiva. Però alla fine è un territorio unico. Mi piacerebbe vedere la Liguria tutta insieme. Quindi così io mi comporto sul mio territorio e con questo spirito produco i miei vini. Secondo me il nostro territorio, il territorio inteso, il Golfo di Tiguglio, questa piccola doc dove noi stiamo parlando, nella quale noi stiamo parlando e della quale noi stiamo parlando, per me è al pari di qualsiasi altra zona della Liguria, senza nulla togliere i valori degli altri produttori. E veniamo quindi ai nomi dei vini. Qua siamo davanti a una cosa molto antica, quindi vinificazione in cemento, il mio O al quadrato, quest'anno non vedrà l'acciaio, quindi passerà dall'acciamento dove sta macerando, quindi il contatto pellicolare con le bucce anche dopo la fermentazione per lungo tempo. Non mi chieda quanto perché questo dipenderà dall'assaggio. Quando riterò che sia pronto farò la svinatura, comunque qualche mese sicuramente. L'anno scorso sono stati tre mesi, quest'anno posso sperare di andare oltre. E poi andrà in terracotta. Quindi se vogliamo parlare di tradizione, non so la terracotta quanto c'entri con la tradizione qua da noi, ma sicuramente è un contenitore naturale e soprattutto non ha le controindicazioni del legno, quindi il legno poi diventa a volte invasivo, diventa prevarica sul vino. Io voglio mantenere l'uva fermentata e il vino che ne ottengo, quindi un frutto fermentato, al netto di contaminazioni, seppur preziose come il legno. Qual è il vino che la rappresenta di più? In questo momento secondo me è Berette. Berette è altro nome dialettale che significa bucce, nel nostro dialetto lo sappiamo, significa bucce dell'uva e anche questo è un modo un pochettino più semplice, un po' meno, diciamo, oggi si usa dire estremo nel mondo del vino. La fermentazione con le bucce, per la durata esclusivamente della fermentazione, quindi un paio di settimane al massimo, sta a contatto con il suo mosto a fermentare. Che gradazione ha? Ma le gradazioni, qui io cerco le maturazioni importanti, questi vini che oltretutto poi non sono, non hanno nessun coadiuvante enologico, la maturazione, quindi l'alcol poi potenziale, l'alcol che si sviluppa, lui stesso diventa un conservante, quindi cerchiamo di raggiungere almeno i 13 gradi, tra i 13 e i 14 gradi i vini. Un rosso? Rosso in questo momento è il vigneto maledetto, come lo chiamiamo il vigneto, il primo vigneto che ho costruito con un uvaggio storico della zona, un po' abbandonato, che è Ciliegio del San Giovese. E il vigneto, il vigneto poi è situato in Vagraveglia, quindi diciamo siamo in valle, le ore luce magari per il San Giovese, che è quello più nervoso tra i due vittigni, non sono magari tutti gli anni adeguati, per cui lo chiamo maledetto sotto questo punto di vista, è quello che mi dà più sbalzi di umore nelle annate, cioè annate che si esprime molto e annate che rimane invece più fresco, giovane, quindi è un vino che da un anno all'altro può cambiare anche di molto. Qual è il suo vaccino di commercializzazione? Ma io quando lo dico anche ai miei colleghi rimangono abbastanza stupiti, perché in realtà io vendo le mie 30.000 bottiglie circa, una per l'annata e per l'altra, poi i numeri hanno il valore che hanno. Le vendo tutte in 40 chilometri, tra Recco e Moneglia io vendo quasi tutta la produzione, quindi come si diceva, nemmo profeta in patria, è che io sono profeta in patria. E quindi su cosa punta nel futuro, considerando che non diamo una valutazione alla vendemmia di quest'anno, anche se doveva essere la prima domanda, ma non glielo ho ancora fatta, in una battuta, vendemmia 2019? Eccellente, forse è una delle più belle che io ho mai visto, problema non ce n'è, 30% in meno. E quindi su che cosa sta lavorando? Sto lavorando sul territorio, i miei ultimi anni, come ho già detto, sono la ricerca dell'essenza, cioè adesso non voglio diventare poeta o farla complicata, è ricercare che cosa si può fare su questo territorio apparentemente con poco e niente. Quindi solo col lavoro, la sensibilità e la voglia di provare, osare e sapere, bisogna anche provare. Le manca il vino Veritas, spero. Sempre il vino Veritas, sempre.